Questa mattina presso il Vincenzo Florio Chirici è stata ricordata Alice Culcasi, giovane donna scomparsa tragicamente lo scorso 30 marzo ed ex aluna dell'istituto. Un memorial di calcio 5 e pallabolo a cui hanno preso parte alcune classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Abbiamo raccolto proprio una proposta dai nostri studenti, l'abbiamo fatta crescere pensando ad una prospettiva. Alice credeva alla fine moltissimo nella scuola, dico alla fine perché è stata una ragazza abbastanza monella, ma a noi monelli piacciono, ed è poi uscita da questa scuola con un bellissimo voto, con un percorso di crescita, quindi abbiamo voluto raccogliere questo messaggio e proporlo ai più piccoli perché la scuola è crescita ed è anche possibilità di riscatto. È stata una scoperta, di anno in anno veramente ha aperto il suo modo di essere a tutti e si è fatta conoscere per quello che era una ragazza dal cuore d'oro e anche dalle tante tante potenzialità, una ragazza molto intelligente. Per me insomma è un onore oltretutto perché sono sicuro che in questo momento Alice è qua che sta sorridendo ed è molto felice che è ricordata, ma soprattutto perché è ricordata in una scuola, quindi in un mondo di formazione dove ci sono molti giovani che hanno un futuro. Io dico che il suo ultimo tatuaggio, insomma, che come tutti i genitori noi siamo congiati ai tatuaggi, mi ha detto questo, mi piacerà. Ed era Ad Maiora. Ad Maiora vuol dire verso cose più grandi. Perché lei dopo aver finito l'istituto lavorava e studiava perché si era scritto in scienze della formazione. E penso che è un grandissimo messaggio per i nostri giovani, per una città e per un suddo che purtroppo si fa sempre imboverendo di giovani. È come se fosse quasi un assoluto Ad Maiora. Ad Maiora vuol dire verso cose più grandi per tutti. I momenti che si vivono il ricordo di qualcuno che non c'è più che sono abbastanza dolorosi. Però il mezzo per sublimare e per mantenere vivo il ricordo di queste persone nel fattispecie di Alice che è morta così prematuramente. Il mezzo è sempre lo sport che riesce a lenire il dolore attraverso la gioia che vediamo nel volto di questi ragazzi che si stanno cimentando, fra l'altro di tantissime scuole del territorio che hanno aderito a questo invito per vivere momenti di gioia dedicati a lei. E questa è una situazione che vede comunque lo sport protagonista. Abbiamo visto in questi giorni, o continuiamo a seguirlo dal punto di vista agonistico che ci dà tantissime emozioni e oggi in grande raccoglimento ma con grande gioia pensiamo e ricordiamo Alice attraverso lo sport.